cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo veloce cambio di scenario tornano piogge e aria fresca ma per poco vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 aprile sul veneto tempo spiccatamente instabile con cielo in prevalenza nuvoloso avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio ma in diradamento dal pomeriggio sera le temperature saranno in calo minime tra 10 e 14 gradi massime tra 15 e 18 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso molte nubi come ci mostra la grafica con deboli piogge sparse via via in esaurimento con il passare delle ore temperature minime sugli 11 15 gradi massime comprese tra 18 e 19 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove di fatto avremo poche novità anche qui rovescio ovunque migliorerà poi nel corso della notte temperature minime sui 9 gradi massime intorno ai 14 15 gradi all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori per l'attenzione